Ciao ragazze e benvenuta al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese prima di iniziare volevo salutare una ragazza, Tonia, che mi segue su Facebook ti mando un bacio cara e ti ringrazio per tutti i commenti carini, tutti i complimenti che mi fai, tutti i tuoi mi piace e mi ha fatto davvero piacere che mi hai chiesto di salutarti, insomma nel video mi fa piacere salutarti e lo faccio con piacere, e niente mi scuso per la luce ma sto girando il video a 1 e 20 di notte perché ne ho approfittato, è venuto a piovere oggi quindi si sta un pochettino più fresco in questi giorni volevo girare il video dei preferiti e dei promosse bocciati ma davvero si schiattava di caldo, non riuscivo proprio tra l'altro la stanza più calda della mia casa è proprio la mia stanzetta quindi vi lascio immaginare a parte che ho problemi con il computer perché con questo caldo non ce la fa, si spegne da solo, non riesce si muore da solo, infatti sto notando anche che quando registro mi vado a scatti comunque inizio subito con farvi vedere i preferiti del mese scusate, e inizio con i prodotti viso allora inizio con la terra della New York Color che mi avete già visto in altri video ed è la 602, la Metropolitan la adoro perché la utilizzo per il contouring, l'ho utilizzata anche oggi è una terra senza sbrillini quindi completamente matte, adatta per il contouring ha un prezzo ottimo tipo sui 3,50 euro, 3,99 euro massimo 4 euro gli standard insomma dei prodotti della New York Color non superano i 5 euro quindi è davvero ottima, ha una scadenza di 30 mesi quindi la trovo davvero molto molto valida io ho preso la tonalità più scura ma voi potete prendere la più chiara, due tonalità la trovo davvero molto molto valida, superiore a quella lì a mosaico che fa la New York Color perché non è aranciata, è davvero adatta per il contouring poi sempre per quanto riguarda i prodotti viso sto utilizzando tantissimo due illuminanti, questo qui della The Body Shop che ho preso in Grecia l'anno scorso e ricorda moltissimo il Mineralize di MAC e questo qui della Ruby Kisses che ho preso al Cosmo come potete vedere uno più chiaro, l'altro più scuro questo qui l'ho utilizzato oggi e si nota comunque nel riflesso dove l'ho utilizzato sono davvero due illuminanti molto molto buoni questo qui costa intorno ai 20 euro i prodotti della Ruby Kisses ne ho presi tipo 3 per 5 euro mi pare una roba del genere o 3 per 5 euro quindi non vi saprei dire il prezzo pieno anche perché in Italia non si trovano infatti l'anno prossimo penso che ne farò scorta di questi qui perché sono davvero molto belli non conoscendo la marca ho spuggiato un pochettino i video delle youtuber americane e questo illuminante qui lo paragonano al Mineralize di MAC ho visto anche gli swatch ed è molto molto simile quindi ottimo acquisto direi poi sempre come prodotti viso sempre per il contouring sto utilizzando moltissimo questo correttore di MAC che è lo studio Sculpt Concealer nella tonalità NV40 ed è questa qui molto molto scura cioè praticamente il mio stesso colore di pelle infatti lo utilizzo soltanto in estate lo utilizzo sia come correttore che per fare il contouring lo utilizzo con lo spalmo con un pennellino sia sulle tempie che per fare il contouring che sotto qui si stende facilmente ha un'ottima resa perché dura tantissimo infatti quando fa molto caldo e voglio una resa duratura utilizzo questo qui se no utilizzo la terra non rende molto cioè non dura tantissimo questo qui dura più di 6 ore mentre la terra non dura fino a sera tarda questo qui vi dura davvero tanto davvero tanto me lo ritrovo pure quando mi strucco la sera tipo le due e mezza passate sta ancora lì quindi la notte la sera la notte quindi è davvero ottimo sempre poi come prodotto viso come blush sto utilizzando moltissimo questo qui di essence della collezione limitata il mio My Scream ringrazio Mara e davvero metto la faccia a terra per la gentilezza che a Mara ne mi riguarda davvero perché mi riesce a prendere sempre i prodotti nuovi delle collezioni davvero non so come ringraziarti ma ora lo dirò in ogni mio video davvero perché tutti i prodotti delle collezioni che ho l'idea cioè ce li ho grazie a lei perché davvero è un tesoro questo blush è fantastico è di un color pesca bellissimo e vi consiglio di applicarlo con un duo fibre ho utilizzato lo stirple brush stirple brush di elf e ha un'ottima applicazione è molto molto bello davvero il colore è fantastico e sulla bronzatura spicca tantissimo e sono davvero contenta di avere questo blush qui ringrazio ancora una volta Mara spero che riuscite ancora a trovarlo negli stand di essence perché è davvero molto molto bello poi per quanto riguarda i prodotti occhi sto utilizzando moltissimo il oddio non mi cade la matita allora sto utilizzando moltissimo questo ombrettino qui di Xea che è quello lì nuovo il verde il verde bosco lo utilizzo sia su tutta la palpebra mobile che sotto come per esempio ho applicato la la matita di Wicon lo utilizzo sotto come tipo come matita e ha un'ottima resa applico prima il primer e poi vado a temporare questo ombrettino qui che è davvero molto molto bello è ricco di glitter quindi illumina tantissimo tantissimo lo sguardo ed è lo 041 verde della Xea Beauty davvero qualcosa di di fantastico il mio colore preferito degli ombrettini Xea ed è 1,5 grammi di prodotto da una scadenza di 24 mesi molto molto carino il packaging è ottimo mi è caduto per terra un sacco di volte vi giuro non si è mai rotto packaging super super promosso davvero poi sempre come prodotti io sono ragazzi io scusate se guardo ogni tanto il video ma vedo che vado a scatti mi dovete scusare ma vi ripeto il mio computer muore con questo caldo non riesce proprio a registrare decentemente quindi perdonatemi davvero facciamo andare via questo caldo e magari si riprenderà un altro prodotto occhi mio preferito è sempre la matita di Wicon che la utilizzo per tutto l'ho utilizzata per questo trucco qui qui sopra è fantastica ed è se cancello noto no la 14 gold leaf della linea long lasting eccola qui long lasting high pencil gold leaf 14 è qualcosa di fantastico di fantastico questa matita dura tantissimo non si scioglie come potete vedere fa un caldo che si muore davvero ottima ha una scadenza di 36 mesi fantastica io vi consiglio tutte le matite long lasting di Wicon perché rendono davvero tantissimo ho anche un'altra verde pavone che è qualcosa di meraviglioso date un'occhiata le matite le long lasting in particolare perché fanno davvero una vasta gamma di colori molto molto belle poi come ultimi due prodotti sono due prodotti labbra e sto utilizzando moltissimo il rossettino della triple summer di essence questo qui il fucsia lo 02 waka waka che molti l'hanno paragonato a quello lì fucsia di mac che non so non mi ricordo il nome ma molte ragazze molti youtuber molte blogger hanno fatto l'hanno paragonato a quello lì di di mac un dupe praticamente è molto molto carino dura molto e sono contenta perché a settembre nella linea permanente di essence ci saranno questi rossettini qui che li chiama long lasting lipstick questi qui sono della triple summer però il packaging sarà lo stesso solo senza insomma questa etichetta qui praticamente saranno soltanto i rossetti della linea long lasting di essence sono molto curiosa di provarli perché sono davvero molto molto validi un altro rossetto che ho utilizzato tanto è questo qui di chanello un tester misfits infrarouge ed è dorato praticamente vi ho postato la foto su instagram dove avevo praticamente il trucco tutto dorato l'ho chiamato di ultra gold ultra gold una roba del genere ed è questo questo qui molto 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 bello e l'ho utilizzato davvero davvero sulle labbra un'ottima resa dura tantissimo e davvero qualcosa di fantastico è 3,5 grammi di prodotto è qualcosa di fantastico questo questo rossetto vi consiglio di almeno swatcharlo quando passate per per lo stand diciamo della Chanel perché è qualcosa di fantastico sulle labbra da proprio al viso da proprio un tocco di luminosità in più lo potete utilizzare sia solo che per illuminare il centro delle labbra è bellissimo e niente ragazze questi sono i miei prodotti preferiti del mese io mi scuso davvero perché noto che il video va a scatti spero che non avrò problemi per editarlo e niente io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao